Dopo aver fatto un tour nei mesi scorsi per il Cilento, sono pronti a dirigersi con lo stesso camper presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per illustrare un progetto che consentirebbe di riaprire in tempi rapidi la strada provinciale 430 Cilentana, chiusa da oltre un anno tra gli svincoli di Agropoli Sud e Preniano Cilento. Sono gli esponenti del Partito Democratico di Vallo della Lucania che, con l'ausilio di ingegneri specializzati in grandi opera, hanno elaborato un'ipotesi progettuale nuova per ricostruire tutto il viadotto, non solo le due pile cedute, con gli stessi soldi stanziati dalla regione e tale da garantire il transito immediato con un ponte militare in attesa del completamento dell'opera entro l'estate. Nemmeno lo stanziamento di ulteriori 12,4 milioni di euro per la messa in sicurezza delle arterie a sud della provincia tranquillizza il PD Vallese, pronto a giocarsi l'ennesima carta per far riaprire una strada di vitale importanza per il Cilento. E dopo aver ribadito la necessità di trasferire la gestione della Cilentana all'ANAS, il segretario cittadino Riccardo Ruocco annuncia di aver individuato la soluzione normativa tecnica e politica per l'affidamento della costruzione e progettazione esecutiva ad un soggetto che svolga le attività in sommorgenza come contraente generale tramite commissariamento sulle linee guida di progetto con appalto integrato. Ma c'è di più. Il progetto elaborato da uno staff di tecnici coordinato dall'ingegnere di grandi opere infrastrutturali, Luca Lombardi, consentirebbe di rifare l'intero viadotto circa 180 metri e quindi di riaprirlo alla circolazione entro luglio. Sarebbe un intervento completo, continua Ruocco, e non solamente lo spostamento ed il rifacimento delle due pile. L'intera progettualità potrebbe essere sostenuta con i 7,2 milioni di euro già stanziati dalla regione. Noi possiamo far rientrare i costi in questo finanziamento, specifica Ruocco, con una differenza sostanziale. Si andrebbe ad intervenire su tutto il viadotto e non solo su 75 metri come previsto dal loro progetto. Inoltre, durante i lavori si potrebbe garantire la circolazione immediata con l'installazione di un ponte militare di tipo Baile. A spiegare nel dettaglio il progetto, invece, l'ingegnere Luca Lombardi. La nuova ipotesi progettuale garantirebbe la triede qualità, costi e tempi certi per realizzare la nuova opera per intero. Inoltre, con questo progetto, andremo a posizionare le pile distanti dal fenomeno franoso verificatosi. Se da un lato il PD Vallese sta spingendo per portare avanti queste ipotesi, dall'altra regione e provincia continuano il loro iter. Hanno infatti siglato a Napoli il protocollo d'intesa per lavori di messa in sicurezza delle strade salernetane per un importo di 12,4 milioni di euro. Pubblicati intanto sul Burchi i decreti da 2,4 milioni di euro per la messa in sicurezza della Provinciale 48 a Trapollica e Pioppi, la 16 a Torraca, la 381 nel comune di Ladiano, la 257 tra Pisciotta, Rodio e Cesareo, nonché della sede stradale tra i comuni di Corletto, Monforte e Sacco. Grazie a tutti.